Noi non possiamo stare più negli attesi, negli uffici, attendere progetti esecutivi o non esecutivi. Noi vogliamo delle risposte forti, chiari e all'apertura da subito dell'inizio dei cantiere. Tre cose fondamentali, diciamo, da subito che la Regione Abruzzo deve fare. A, mettere su il cantiere per quanto riguarda l'apertura della diga forania, realizzare da subito un'area di cantiere, cioè la soffolta di venti largine del fiume Pescara che consenta ad essa di evitare che il fiume vadi a nord. Tre, fare subito un progetto di massima urgenza, di abbassare le scogliere, di rendere le soffolte in modo da riconsentire la balneabilità almeno nel tratto più a rischio. E mi riferisco a quello che viene ogni volta denunciato, cioè l'area dei 300 metri del Molo Nord. Già lo scorso anno abbiamo avuto delle resistenze per posizionare le panne galleggianti e abbiamo avuto resistenza perché molto probabilmente la politica non era convinta. Adesso la politica sta all'angolo, si faccia da parte, dia sfogo alle nostre rabbie, ma che non sono le rabbie perché dietro di noi non ci stanno soltanto gli stabilimenti balneari. Che ne dica qualcuno, dietro c'è un indotto e basta chiedere alle ditte fornitrici del settore del food per dire loro, per sentire loro se la stagione 2016 è stata una stagione che ha portato incremento. È stata una stagione che ci ha fatto perdere circa il 50%. Se adesso D'Alfonso e chi per lui non convoca un'assemblea pubblica e dica lui il da farsi, ma tenga conto dei nostri suggerimenti, sfoltimento delle scogliere, l'apertura subito del cantiere per iniziare il lavoro del taglio della diga e ad essa costruire subito l'arce per fare l'area di cantiere.